Sono iniziati i lavori per la costruzione della nuova piazza coperta, officina del porto a San Concordio, nell'area conosciuta come ex steccone. La prima fase dell'intervento, spiega il comune in un comunicato, prevede le operazioni di pulizia che riguarderanno anche i resti archeologici che si trovano nell'area. In un secondo momento saranno studiate soluzioni per rendere i reperti visitabili. Terminata questa prima fase, che dovrebbe proseguire per qualche settimana, si passerà invece alla realizzazione dell'opera vera e propria, il grande portico all'aperto e il parcheggio sotterraneo su due piani, per realizzare il quale si dovrà procedere allo svuotamento dell'interrato invaso dall'acqua della falda. Gli spazi esterni saranno caratterizzati da nuove alberature e altri elementi di verde attrezzato. Da contratto il cantiere dovrà avere una durata di 17 mesi e dunque si prevede che la nuova area sia pronta per essere frequentata dai cittadini del quartiere nella primavera del 2022. L'opera, come noto, è però contestata dal Comitato Cittadino di San Concordio.